Alessio Cragno, hai contribuito con le tue parate a tante vittorie. Purtroppo a Chiavari è mancato qualcosa. Sì, è stata una partita un po' particolare. Dopo 20 minuti eravamo in vantaggio di due gol e non siamo riusciti a mantenere il risultato. Poi nel giro di un quarto d'ora abbiamo preso l'1-2 e da lì è cambiata la partita e poi non siamo più riusciti a vincerla. Come vi siete preparati in questa settimana dopo due sconfitte di fila? Adesso c'è il Perugia perché non bisogna più sbagliare. Sicuramente c'è una gran voglia di far bene, di riprendersi da queste due sconfitte. e giochiamo in casa dove il pubblico ci ha sempre dato una mano. Sono sicuro che continuerà a darsela e speriamo di ottenere il risultato pieno. Senti, stai crescendo tantissimo. Il tuo contributo lo si vede partita dopo partita. Dove vuole arrivare Alessio Cragno? Vuole arrivare a far bene qua Benevento, a raggiungere innanzitutto la salvezza con Benevento il prima possibile. e poi insieme alla squadra una volta raggiunta la salvezza di divertirsi anche. Te la faccio adesso questa domanda dopo due sconfitte. Questo Benevento secondo te dove può arrivare? Ma innanzitutto ai 50 punti il prima possibile. Poi come ho già detto, una volta che arriveremo ai 50 punti cercheremo di divertirci in campo e di far divertire anche la gente.